Bello! Lì solo la fumera Quanta stai lì eh? Era Navarro, hai visto che roba? Lui è il numero uno su queste strade qui eh? Non, non, non! Oậu migui! Bombo! Buono migui! Questo è il mio parente, quella lì è una gruppo N, quattro latemotrici, è l'ambito di scievo. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Quattro latemotrici, che polvere che alzano. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito 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 www.mesmerism.info Bencela! Un cu spalta no? Un cu spalta! Un cu spalta!